L'Avvocato Marcella Scrofani è Presidente del Movimento Partecipiamo, questa mattina è stata presentata un'iniziativa congiunta con altri movimenti ragusani per parlare ancora di referendum, un'occasione per discutere delle ragioni del no al referendum costituzionale. Sì, per il momento altre due associazioni, anche se già partecipiamo aveva aderito al Comitato per il no che è stato costituito qualche mese fa qui a Ragusa e che raccoglie tante altre realtà culturali e politiche della città, con Ragusa e Movimento e Aria Eblea abbiamo organizzato un convegno che si terrà il 21 di ottobre con degli illustri nomi, soprattutto dei tecnici che potranno spiegarci questa riforma che appare molto complessa e molto confusa a tratti. I tre movimenti sono diversi di natura, di aria politica? Sì, proprio questo a dimostrare. Ecco, cosa dimostra questo? Le ragioni sono a tutela della democrazia, diciamo della Costituzione, ma prima ancora che della Costituzione e della democrazia, perché secondo noi questa riforma, che andrebbe fatta, ma andrebbe fatta con un altro metodo e con contenuti diversi, va fatta, va modernata la Costituzione sì, ma con molta delicatezza e con molto rispetto, perché allo Stato rispecchia dei principi democratici irrinunciabili. Quindi vi siete trovati uniti nel sostenere il no? Sì, nel sostenere il no, anche perché lo ricordiamo, questo referendum non è abrogativo e confermativo, quindi non è necessario un quorum, non possiamo puntare sull'assentismo purtroppo, anche se è una cosa che non ci piace, ma perché se la semplice maggioranza dei voti, dell'una o dell'altra posizione, determina la soluzione del problema, comunque la confermo o meno, di questa riforma.